Spesso esistono modi molto diversi di interpretare la stessa cifra. L'aumento del 20% di locazioni turistiche registrato a Venezia nell'ultimo periodo, ad esempio, visto da Caffarsetti, può essere interpretata come una manna capace di far salire il monte premi della tassa di soggiorno oltre il milione e i 600 mila euro nella sola prima metà dell'anno. Marco Gasparinetti, del gruppo 25 Aprile, invece, si fa portavoce di chi ha un'altra chiave di lettura. Quel più 20% di pernottamenti extra alberghieri a Venezia significa un 20% in meno di posti letto disponibili per i residenti, a meno che l'obiettivo non sia quello di trasformare Venezia in un albergo diffuso, c'è poco da gioire. Nel metroquadro che si libera diventa locazione turistica, quindi come veneziani dovremmo forse metterci una mano sulla coscienza e chiederci se è questa la città che vogliamo, una città in cui possano vivere soltanto i molto ricchi che possono comprarsi casa e i relativamente poveri che sono al di sotto delle nuove soglie. Se vogliamo fare qualcosa di concorrente per questa città, gli strumenti ci sono, esiste anche una legge regionale, la legge Caner, a cui dedicheremo un dibattito in Bragora il 20 settembre. Il problema di Venezia, sostengono dal gruppo 25 Aprile, non è il singolo che affitta ai turisti, ma alla somma di tutti i singoli che non fanno altro, magari per mancanza di incentivi a fare diversamente. Il Comune sta sicuramente facendo la sua parte, anche perché siamo sotto lezioni, per quel che riguarda la riconsegna alla cittadinanza di tutti quegli appartamenti in proprietà comunale che per mancanza di restauro negli anni precedenti erano rimasti vuoti. Di questo diamo atto molto volentieri all'amministrazione comunale. Se abitare a Venezia non è un problema per chi ha disponibilità finanziaria e per chi, avendone poca, può entrare nella graduatoria degli alloggi popolari, a rimanere schiacciata nel mezzo c'è quella classe media troppo benestante per un aiuto pubblico, che però è allo stesso tempo troppo povera per affrontare un mercato dei prezzi proibitivi, una situazione che dovrà obbligatoriamente essere presa in considerazione.